Impossibile viaggiare ad Arezzo nei fine settimana, colpa o a seconda di come la pensiate merito della città del Natale. L'amministrazione comunale però con la collaborazione di Atam è corsa ai ripari. Nei weekend della città del Natale i parcheggi sono sold out fin dalle prime ore del pomeriggio. Abbiamo pensato ad intercettare il flusso in arrivo anche più distante dal centro, afferma Bernardo Mennini dalle colonne di Arezzo Notizie, grazie alla joint venture con Arezzo Fiere, chi viene dall'autostrada da oggi ha a disposizione l'area di sosta dedicata sia ai camper che alle auto nel parcheggio di Arezzo Fiere. Atam con l'amministrazione comunale e la Fondazione Arezzo in Tour ha istituito questo nuovo parcheggio che sarà collegato con una navetta dedicata al Parc Baldaccio. Una nuova area di sosta dunque che si aggiunge anche all'offerta di sosta camper già prevista in città nei parcheggi di Via Tarlati e Via da Palestrina. La navetta sarà in funzione dalle 9 alle 22, 5 euro al giorno il prezzo per ogni mezzo comprensivo della sosta e del servizio di navetta andata e ritorno.